Partendo da alcuni commenti ricevuti su altri video precedenti, credo che sia importante effettivamente provare a spiegare meglio la differenza tra una persona che ha delle tendenze narcisistiche, quindi tra virgolette con delle tendenze di accudimento a se stessa, di piacevolezza nei propri confronti, e invece una persona che ha un disturbo di personalità narcisistico. Provando a decomprimere e a spiegare meglio i nove criteri che determinano appunto questo tipo di diagnosi. Partiamo dal primo, ha un senso grandioso di sé. Diciamo che tutti conosciamo qualcuno che sia un po' arrogante, che si vanti troppo, e a volte riconosciamo in questo atteggiamento una certa fragilità, cioè come se ci fosse da parte sua il bisogno di essere confermato o confermata. D'altronde le persone che vogliono raggiungere degli obiettivi e che hanno come mentalità, la mentalità della crescita personale, non si vantano facilmente perché non è una cosa di cui sono molto interessati. Ma la cosa interessante rivolta al narcisista è che il narcisista vuole essere lodato, apprezzato, riconosciuto come il migliore o la migliore senza che ci siano effettivi risultati. È come se continuamente ti dice se io sono superiore a te, guardami, sono bravissimo, molto meglio di quello che riesci a fare. E se può dar fastidio nelle relazioni di amicizia, quando la relazione è intima o addirittura familiare, genitoriale, questo diventa veramente qualcosa di molto dannoso. Perché allora ogni volta dirà che è più intelligente del marito, della moglie, che è più intelligente di qualche figlio, che se un figlio raggiunge un obiettivo, che ne so, inizia a giocare nella squadra di calcio a livello un po' più avanzato, Lui dirà che una volta il calcio era più difficile, sminuirà sempre i risultati ottenuti. Perché qualsiasi sia risultato che la persona accanto a lui ottiene è comunque sempre meno importante e interessante e di valore rispetto a quello che ha ottenuto lui o che ha ottenuto lei. Secondo criterio è frequentemente preoccupato da fantasie di successo illimitato, di potere, di gloria, di bellezza o amore ideale. Questa è la parte in cui il narcisista o la narcisista risultano un po' preoccupati, perché questo rivela il loro modo di pensare che è tutto su di me, che devono essere sempre più in alto degli altri, essere sempre in cima e se entrano in competizione vincere sotto tutti gli aspetti. E allora tu sei importante nella loro vita perché li aiuti a raggiungere questa perfezione. Ma se tu invece puoi raggiungere qualcosa di più elevato di quello che raggiungono loro, faranno di tutto per abbatterti, per abbassarti costantemente. Se per disgrazia iniziano a pensare che tu li stai un po' ecclissando, mettendo in ombra, faranno ogni giorno qualcosa per riportarti al tuo posto. E la continua preoccupazione per la loro immagine richiede tantissima energia da parte loro e per ottenere quello che vogliono non si preoccuperanno dei bisogni delle persone che hanno intorno. Se loro una sera devono partecipare a una cena di gala e tu stai molto male, non rinunceranno mai a quello spazio per essere accanto a te. Terzo, crede di essere speciale e unico che può essere compreso solo da altre persone speciali come lui o comunque persone di uno status molto elevato. Il narcisista o la narcisista non ti apprezzeranno mai per quello che sei, ti apprezzeranno solo per quello che fai. E ad esempio nelle relazioni amicali valuteranno i propri amici solo in base a quello che possono ricevere da loro. E quindi dallo status sociale che hanno, dai risultati che ottengono, se andando in giro dicendo io sono amico di Mario, Mario ha una situazione personale molto importante. Allora quello diventa per loro un motivo per cui affiancarsi a quella persona. Quindi per loro non c'è una connessione intima con le persone che hanno accanto, con gli amici. Hanno semplicemente una connessione rivolta a quello che possono ricevere da queste persone. Nella maggior parte dei casi, quindi nelle relazioni sane, si apprezza un amico per quello che è, per il suo carattere, per il modo in cui è amico reciprocamente. Per il narcisista no, questo non avviene proprio mai. Quarto, ha bisogno di un'ammirazione eccessiva. Quello che spesso riportano le persone che hanno a che fare con narcisisti o partner narcisisti o genitori narcisisti è che sono esausti. Perché il partner o la partner o il genitore narcisista è come se avesse sempre bisogno di essere rifornito, costantemente. Rifornito di ammirazione, di lode, di attenzione. Quando sei in una relazione o in rapporto con una persona con queste caratteristiche, ti senti continuamente risucchiato, svuotato, ti senti più vecchio dell'età che hai. E accanto a questo, con la solita frustrazione di non aver mai esaudito completamente le sue richieste. E per il narcisista o la narcisista, scordiamoci il discorso del rapporto di reciprocità, perché per loro è solamente un avere. E per il partner o la partner o le persone con cui entrano in contatto, c'è solo un dare. Quinto, si aspetta di essere trattato in modo speciale. Si sente sempre di avere più diritto degli altri e non si può discutere con lui di questo aspetto o con lei, perché non prende in considerazione mai i bisogni delle altre persone. I suoi bisogni vengono prima di tutto e hanno l'idea, la sensazione che hanno quel diritto di essere trattati in maniera così speciale, se lo meritano. E se non copri in questo loro bisogno, potrebbero anche diventare ostili, utilizzare dei commenti offensivi, denigratori nei tuoi confronti. E quindi cercare di ferirti e cercheranno anche di non apprezzarti mai. Sesto, tende a sfruttare le altre persone per raggiungere i propri obiettivi. Anche in questa situazione, per il narcisista o la narcisista, l'altra persona non ha nessuna importanza. Ciò che viene prima di tutto sono i propri bisogni e il raggiungimento dei propri obiettivi. Il narcisista non ha mai un attimo di esitazione se pensa di poter ottenere qualcosa da qualcun altro. E questo è molto spiezzante per le persone che non hanno questo tipo di disturbo, perché non immaginerebbero mai che una persona li usa costantemente. E quindi, se hai un amico o un'amica fortemente narcisista, ti renderai conto che ti cercherà solamente quando ha bisogno di essere portata in macchina o portato in macchina. E che quando invece ha altre cose da fare più interessanti, farà di tutto per non farsi trovare da te. Settimo, mostra deficit di empatia. Fatica a riconoscere o a identificare i sentimenti o i bisogni degli altri. La mancanza di empatia è una caratteristica fondamentale del narcisista. Senza provare empatia emotiva, come ci si può affezionare a una persona, a un compagno, a una compagna, a un bambino, a un figlio. Se uno cerca di agire come se amasse l'altra persona, lo può fare, ma diventa molto faticoso, perché non è reale. A tutti sarà capitato di incontrare una persona che evidentemente è molto sensibile, che fa domande, cerca di esprimere la propria sensibilità. E poi, non appena succede qualcosa che possa contrariarla, questa persona usi tutto quello che è stato detto per ferire l'altra persona, come se queste cose non fossero state dette in una grande intimità. Oppure, mentre parli con un tuo amico e gli racconti qualcosa di personale, molto profondo, lui ti interrompe o lei ti interrompono e ti dicono Ah, ma poi, ma sai, mi è successo quest'altra cosa? E non si interessano assolutamente di quello che stai dicendo. Perché è troppo preoccupato o preoccupata di parlare di sé, di rivolgere l'attenzione a se stesso. Facciamo un esempio classico? Ad esempio, tuo marito ti ha tradita o tua moglie ti ha tradito e tu prendi questa situazione con difficoltà e sofferenza e decidi di separarti perché è qualcosa che non potrai mai sopportare nel momento in cui vai da tua madre e glielo racconti, lei ti guarda preoccupatissima e ti dice E gli altri cosa ne penseranno di questa cosa? È il fatto che sia più preoccupata dei vicini che di quello che ti sta succedendo ti fa intuire l'incapacità del narcisista o della narcisista di amare un'altra persona. E questo aspetto è veramente molto difficile da accettare, soprattutto in un rapporto. Ottavo, è spesso invidioso degli altri e pensa che gli altri siano invidiosi di lui. Questo nasce proprio dal fatto che ha delle fantasie assurde e reali sulle proprie capacità e sul quanto viene ammirato dagli altri. E quindi pensa che tutti quelli con cui entra in contatto o che lo conoscono siano invidiosi di lui o di lei. Ma quello che veramente appare più forte è loro essere invidiosi degli altri. E questo appare nel modo in cui parlano degli altri, in cui agiscono rispetto agli altri, in modo in cui cercano di abbatterli, di togliergli quello che loro pensano possa essere una caratteristica migliore. E quindi fanno di tutto per mettere in giro pettegolezzi, per rovinare un po' la reputazione, in modo tale che loro possano risaltare. Nono, si mostra arrogante nei confronti degli altri. Usa questo atteggiamento per coprire la propria bassa autostima. E anche se fanno i grandiosi, cioè che sembrano essere super entusiasti di se stessi, che si lodano continuamente, potrebbero invece nascondere un loro odio per se stessi e per le proprie fragilità. Provare addirittura disgusto per questi aspetti che loro non accettano. E quindi provare a mostrarsi arroganti nei loro confronti, umiliarli per sentirsi meglio. Quindi teniamo a mente che molte volte quando parliamo di narcisismo ci riferiamo a uno spettro, a una gamma di comportamenti narcisistici che possono andare da un lieve narcisismo, che è abbastanza comune, a invece a un disturbo forte di personalità, che per essere diagnosticato devono essere presenti almeno 5 dei 9 tratti che abbiamo prima spiegato. Ma ritengo altresì importante e fondamentale che ognuno riesca a riconoscere le persone che hanno questo tipo di disturbo, perché nonostante soffrano anche loro, provocano sofferenza nelle persone che entrano in contatto. E quindi a volte se non si riesce a identificare questi tipi di comportamenti, si rischia di passare molto tempo soffrendo senza capirne realmente la causa, ma rincorrendo qualcosa che non avverrà mai, cioè il fatto che il narcisista senta il bisogno di curarsi e che quindi attribuisca anche a se stesso le colpe della propria sofferenza.